Le Laudie Aretine dal XIV al XV secolo, protagoniste del convegno e dell'omonimo libro di Dennis Duc, studioso di storia medievale. Un testo presentato nella chiesa di San Domenico, scelta per il tema religioso del convegno organizzato dall'Accademia Petrarca. È nata dall'interesse che abbiamo provato nel conoscere questa pubblicazione che è del 2024. Quindi abbiamo contattato attraverso il professor Licciatello e il professor Ducchi, che è stato ben lieto di poterla presentare oggi, soprattutto in San Domenico, che è un ambiente che si presta magnificamente a questa iniziativa. Un particolare della Lauda Aretina è che è un'espressione di spiritualità, ma anche un'espressione di culturale, politico della città, cioè invocazione al Santo Patrono Donato a difendere la città, che loro cantavano queste laude durante le processioni, non solo nelle chiese oratori loro, ma anche per la città, nelle processioni. E così coinvolgevano tutto il popolo. E ci sono delle laude in cui dicono cantate, cantate cittadini arettini, per il nostro Santo Patrono Donato, la nostra defensione, la nostra difesa.